Adesso, per i gravi vecchi trascettoni, di quelli che dico io, e chi non la conosce, poi va a casa e se la studia, contro tutti quelli che vi parlano male, che vi vogliono tirare giù con le loro parole, invidia, hate over kill. Adesso, per i gravi vecchi trascorgi, non faccio... Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!